Enzo Tacconi, direttore temporaneo di Ato Toscana Sud, ha rassegnato le proprie dimissioni. La notizia è arrivata nella giornata dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di Ato Sud. Tacconi era subentrato a novembre da Andrea Corti e arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Procura Fiorentina per turbativa d'asta e corruzione nella maxigara da 3,5 miliardi di euro per l'assegnazione della gestione dei rifiuti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Tacconi è stato raggiunto da un avviso di garanzia con l'accusa di concorso in corruzione turbativa d'asta. Abbiamo dovuto nominare una nuova persona, un nuovo dipendente di Ato e abbiamo scelto e abbiamo avuto disponibilità soprattutto della dottoressa Elisa Bigli, avvocato, che quindi darà anche secondo me un taglio un po' diverso alla direzione generale, sempre protempre, quindi sempre per l'ordinaria amministrazione e non per i provvedimenti importanti che passeranno sempre comunque dall'Assemblea. Quello che è importante per noi sindaci, per me che sono il Presidente dell'Assemblea, per il Presidente del Consiglio Direttivo Alessandra Biondi, Sindaco di Civitella Paganico, è che ci sia continuità amministrativa perché Ato non può lasciare i rifiuti solo in mano al gestore. Ato si deve impegnare giorno per giorno per dare le regole, per dare i programmi, per condividere le scelte tra i sindaci e farne oggetto di indicazione funzionale al gestore. Il gestore, se lasciato solo, essendo un gestore in mano sostanzialmente, ma non esclusivamente a una componente privata, deve massimizzare il guadagno e i sindaci devono massimizzare il risparmio. Quindi non ci può che essere una corretta dialettica. Io ieri ho invitato anche il Presidente di Sei Toscana, ne ho nominato, il Dottor Paolini di Siena, che è un commercialista, quindi un professionista, una persona seria. Naturalmente lui è il mio alter ego, è la mia controparte diretta in Sei Toscana. Bene, se riusciremo a lavorare correttamente, io insieme a Ato, nei loro confronti e loro come gestore attraverso questa Presidenza e il Consiglio di Amministrazione, per recepire quanto dai sindaci arriva, allora il servizio può migliorare e forse può anche ridurre i costi. Ma se si fa a cozzi, come si dice a Rezzo, non si va da nessuna parte.